La Movida è sempre al centro dell'attenzione, c'è chi ha segnalato mancanza di mascherine e qualche disagio, chi invece ha tracciato un bilancio positivo anche perché la riapertura dei locali da ballo ha garantito un certo controllo. Siamo andati al comando della Polizia Municipale per fare il punto. Comandante, si è chiuso un altro weekend, come sta andando il controllo del centro che è sempre massiccio, voi lo fate anche con altre forze, che bilancio si può fare? Un bilancio diciamo abbastanza positivo in quanto dal momento che sono state riaperte le discoteche i giovani si sono spostati, diciamo si stanno recando anche all'interno dei locali, quindi l'area che riguarda Piazza Labbadia, Piazza San Francesco, Piazza Grande, diciamo il numero dei giovani è leggermente diminuito. C'è stato in passato anche il fenomeno un po', non lo vogliamo evidenziare così come succede a Milano, per esempio che è stato un fine settimana molto pesante di baby gang, qualche piccolo episodio c'era stato sotto questo profilo che si può dire? Diciamo che i giovani devono imparare a divertirsi, imparare a far sì che la comunicazione che avviene tra di loro non sia una comunicazione violenta, con atti violenti, ma si ritorni al sano divertimento.